Le scuole sono appena iniziate, ma il bullismo continua a colpire tantissimi ragazzi e ragazze. L'osservatorio Bullismo e Cyberbullismo di Scuola.net denuncia che il 13% degli adolescenti ha subito vessazioni occasionali, 7% sistematiche nel corso dell'anno scolastico che è appena concluso. Il servizio di Lucia Ascione. Un adolescente su 5 è vittima di vessazioni occasionali o sistematiche da parte dei coetanei. Dietro i numeri della ricerca dell'osservatorio Bullismo e Cyberbullismo ci sono adolescenti dagli 11 ai 16 anni, la fascia di età più rappresentata, derisi, offesi e umiliati, frequentemente dagli stessi compagni di classe con cui condividono anni di scuola e di vita. Il bullismo si lega profondamente a due elementi. Il primo è l'insicurezza identitaria del bullo che sente la necessità di esercitare un'aggressività, una violenza per affermare il proprio io fragile e la seconda causa sta nella mancanza di empatia, ovvero nell'incapacità di mettersi in connessione con il mondo interiore dell'altro. Le vittime sempre più spesso denunciano i bulli eppure il fenomeno sembra non regredire. È vero, se ne parla di più e questo è giusto. Però voglio fare una provocazione, ne parliamo tanto ma la nostra società, la società degli adulti, mi sembra che ospiti forme di bullismo e allora è del tutto inutile andare dai ragazzi a dire di imparare a cooperare quando poi hanno un esempio di mondo sociale estremamente competitivo e in cui c'è davvero poco posto, sembra, per la compassione. Ridare fiducia e autostima alle vittime del bullismo è la sfida, non meno audace di quella di curare gli aguzzini. Si può fare qualcosa per aiutare il bullo, si può insegnargli che è importante lavorare su di sé e ricostruire la propria sensibilità e che essere insensibili al dolore dell'altro non è un valore. Per quanto riguarda la vittima, la cosa fondamentale è evitare quella che noi chiamiamo la seconda vittimizzazione, ovvero se hanno bullizzato proprio te c'è qualcosa che non va in te. Non è vero, non c'è niente che non va in te e si può ricostruire anche per la vittima una solida autostima.